Il crocifisso La domanda che ci facciamo è questa, cioè perché Gesù è morto in croce in quel modo, cioè non soltanto in mezzo a sofferenze fisiche inaudite, sofferenze morali, ma anche sofferenze morali per l'abbandono dei suoi discepoli, per la presenza della madre. Sofferenze morali soprattutto per il disprezzo degli altri, l'umiliazione, il rifiuto, l'irrisione, la sfida, la scena della croce, eccetera, cioè veramente il crocifisso è l'abiezione umana, perché? Allora noi ci chiediamo, ma perché per il Dio nel mondo Dio ha dovuto percorrere questa strada? Ognuno poteva fare un decreto di amnistia generale, mandava un angelo dal cielo e proclamare pace in terra agli uomini, buona volontà, chi si pente andrà in paradiso. Ecco, poteva fare un bel programma di questo genere e quindi, diciamo, era tutto fatto. Allora perché il Signore ha percorso questa strada dell'inominia e della croce? E questo è stato anche l'interrogativo che ci sono posti gli apostoli, cioè gli apostoli da quell'orecchio lì erano sordi. Cioè loro seguivano Gesù Cristo perché pensavano che fosse il Messia e quindi avevano una prospettiva, diciamo così, di un regno terreno, un po' come i musulmani, insomma. Cioè il regno di Dio sulla terra e poi naturalmente gli sgomitamenti, i posti principali con le mamme che spingevano dietro, come la mamma dei figli di Zebedeo, eccetera, no? E quindi tutte le volte che Gesù Cristo aveva pronunciato la croce, non ci sentivano, anzi, quando Pietro fece la sua professione di fede, rispondendo alla domanda di Gesù, gli uomini cosa dicono di me, cosa dicono che io sia. E allora, dicono alcuni, dicono che sei un profeta, eccetera, ma voi chiedete che io sia. E Pietro rispose con quella professione di fede che è il cuore del cristianesimo. Cioè tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cioè è cristiano chi crede che Gesù è figlio di Dio. Questa è la pietra su cui è costruita la Chiesa. Chi non crede che Gesù Cristo è figlio di Dio non è cristiano, sarà qualcosa di diverso, ma il cristiano non è. E credere che Gesù è figlio di Dio, è il salvatore del mondo, è risorto, è vivo, ci vuole la fede. Una fede che molti perdono, fra l'altro, perché non basta mica credere che c'è Dio. Crede che c'è Dio, anche i massoni credono che c'è un architetto del mondo. Allora, appena Pietro fece questa professione di fede, Gesù disse, Beato te Pietro, eccetera, 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 perché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il padre mio che è nei cieli, eccetera. Poi io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, perché? La Chiesa è fondata sulla fede di Pietro, cioè sulla fede che Gesù è il figlio di Dio. E crede che quel crucifisso lì è il figlio di Dio non è facile, anzi sotto il profilo umano è impossibile. E allora, siccome Gesù subito preannunciò che era il figlio di Dio, ma come diceva Isaia, cioè sofferente, che sarebbe morto, sarebbe stato preso, flagellato, sputacchiato, deriso e crucifisso, Pietro lo chiama da parte e gli dice, cosa stai dicendo, sei diventato matto? Pietro dice a Gesù, capito? Pensa che consiglieri. E Gesù gli dice, poi quelle traduzioni sono due, vieni dietro a me Satana, come per dire, segui me, lo chiama Satana. Gesù chiama Pietro Satana. Dopo aver detto che era non Pietro ma Pietra, lo chiama Satana. Perché Satana? Perché Satana è esattamente colui che voleva distogliere Gesù dalla via della croce. Per un messianismo politico terreno. Gli dice, alcuni dicono, vada e retro Satana, va via da me Satana, va via lontano da me Satana. La loro traduzione dice, vieni dietro a me Satana. Cioè, cosa vieni dietro a me? Seguimi, seguimi sulla via della croce e non fare il Satana, cioè colui che cerca di sviarmi. Allora, quindi, e poi tutte le volte che Gesù ha pronunciato la sua passione e la sua morte, gli apostoli non hanno creduto, tant'è vero che alla vigilia della passione litigavano per chi dovesse essere al primo posto. Ecco, per cui non erano preparati. Anche se alcuni di loro, come per esempio Andrea, Giovanni, erano discepoli del Battista, il quale aveva detto, ecco l'agnello di Dio. Però agnello, dire, colui che si sacrifica, colui che toglie i peccati del mondo. Quindi aveva già dato, Giovanni, aveva già dato l'interpretazione esatta della missione di Gesù. Cioè il Messia Redentore che porta i peccati del mondo e come agnello sacrificale li espia per tutti. Ma gli apostoli non hanno creduto perché senza lo Spirito Santo non si ha la fede. Per cui loro erano impreparati. Impreparati al fatto che Gesù fosse preso, preso, fosse imprigionato. E tant'è vero che lo shock fu così grande che Pietro a un momento perse il controllo di sé e si impaurì, di che cosa poi, di fronte a una donna lì del servizio che gli diceva anche tu sei uno di quelli. E Pietro disse non conosco quell'uomo. Una cosa tremenda. Cioè dire non conosco quell'uomo. Una cosa tremenda. Perché? Perché erano impreparati a comprendere il fatto che Gesù Cristo potesse, cioè hanno capito che si realizzava quello che aveva detto. Cioè la sua umiliazione, la sua prigionia, la sua umiliazione da parte dei pagani, da parte anche dei capi del popolo. e quindi questo macello che è la passione di Cristo, insomma, che è il concentrato delle cattiverie, delle malvagità di tutti, di cui sono capaci gli uomini. Allora uno si chiede ma perché? Perché Dio ha fatto questo? Cioè Dio si è fatto uomo e ha subito questo. Gli apostoli, gli apostoli, hanno capito dopo, dopo la resurrezione, hanno capito. Hanno capito perché Gesù gliel'ha spiegato e perché ha soffiato su di loro lo Spirito Santo. Allora hanno capito una cosa semplice che oggi si ha paura a spiegare. E cioè Cristo patì per i nostri peccati. La prima predica che fece Pietro a Gerusalemme davanti a migliaia di persone disse ha patito per i nostri peccati. Questa è la interpretazione della passione. Ha patito per i nostri peccati. Allora io mi chiedo ma per qual motivo Dio non poteva, diciamo così, liberarci dal peccato senza la passione. Allora qui si possono fare molte considerazioni. Prima considerazione. Ringraziamo la passione di Cristo. Cioè la passione di Cristo che il crocifisso ci rivela due cose. Due cose ci rivela. Cioè bisogna leggerlo con gli occhi dalla fede per capire cos'è il crocifisso. Ci rivela due cose. Il crocifisso ci rivela da una parte quanto Dio ci ama. Per cui Caterina da Siena dice chi è quello stolto bestiale che vedendosi così amato non riami. Allora se Dio avesse amato un decreto di amnistia noi non avevamo capito quanto condivide la nostra vita, quanto ha condiviso la nostra condizione umana facendosi come noi, facendosi uno di noi, portandosi sui peccati del mondo. Quindi noi abbiamo, dalla croce, noi vediamo quanto uno si ama. Di fatto Gesù l'ha detto nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. Cioè tu quando ti accorgi che una persona ti ama, tu ti accorgi che una persona ti ama quando si sacrifica per te. Quando tutti gli altri ti hanno abbandonato lei c'è. Quando ti dà una mano, quando nessuno ti dà una mano. Al massimo, cioè l'estrema forma di amore è quando uno sacrifica la tua vita per te. Quindi questo Dio è sceso proprio fino in fondo nell'accettare la sofferenza umana prima di tutto perché in questo modo noi comprendiamo quanto Dio ci ama veramente. Perciò l'amore di Dio è qualcosa di concreto, di verificabile. Anche perché come il secondo messaggio che la Madonna a Međugorje ha fatto alla parrocchia nella primavera, nella quaresima del 1984, dunque il primo messaggio fu convertitevi voi dalla parrocchia, eccetera, eccetera. Il secondo messaggio fu contemplate le piaghe del crocifisso che gli sono state inferte dai peccati di questa parrocchia. Quindi, capite, i peccati di questa parrocchia. Quindi, noi da una parte vediamo l'amore di Dio fino a che punto è arrivato, ma dall'altra vediamo anche il peccato del mondo, cioè i nostri peccati. Perché chi ha messo in croce Gesù Cristo la cattiveria degli uomini. Cioè, tu vedi come tu nel crocifisso tu consideri che il crocifisso è il figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, tu pensa come gli uomini lo hanno trattato. Pensa. L'hanno riservato quel trattamento. Cioè, noi, a Dio che si è fatto uomo è venuto in mezzo a noi, gli abbiamo riservato quel trattamento. Questo è quello che l'uomo ha dentro. L'uomo ha dentro l'odio contro Dio. Per noi è difficile capirlo perché noi abbiamo detto l'amore di Dio perché siamo stati redenti. Ma c'è dentro il veneno satanico dell'odio contro Dio e lo manifesta la croce. Questo lo manifesta la croce, l'odio contro Dio. Per cui, per cui il crocifisso ci rivela la situazione di peccato dell'umanità. e nel medesimo tempo ci rivela una cosa di cui oggi si parla poco ma parlandone poco specialmente noi che siamo cristiani noi praticamente non so come dire banalizziamo il cristianesimo. E cioè il crocifisso ci rivela ci rivela ci rivela da parte l'amore di Dio ma dall'altro il peccato del mondo e ci rivela la gravità del peccato. Cioè faccio un piccolo esempio chi di noi chi di noi facciamo un esempio un po' estremo cioè uno commette un peccato mortale per esempio un adulterio no dopo che l'ha commesso è pronto per farne un altro ecco il medesimo scopre davvero un tumore il medesimo scopre davvero un tumore vedi tu dico corse dai medici analisi novena alla madonna eccetera eccetera ma quale dei due mali è più grande? quali dei due mali è più grande? non c'è paragone noi per un raffreddore noi siamo già in crisi per un peccato mortale non è che ci facciamo caso ma ragazzi noi con il raffreddore o con il tumore non andiamo all'inferno ma col peccato mortale di cui non ci pentiamo andiamo all'inferno non c'è niente da fare che ne pensino gli uomini e anche molti preti non c'è niente da fare perché perché ciò che molti non hanno ancora capito è che chi comanda è Dio per cui noi possiamo cambiare tutte le leggi che vogliamo ma Dio ci indica secondo le sue di leggi per cui se una cosa è peccato è peccato noi non possiamo stabilire che non sia peccato però dove volevo arrivare io è questo perché mi interessa il punto della questione che il male assoluto il più grande male che esista al mondo è il peccato e il peccato è la causa di tutti i mali di tutti i mali compresi quelli fisici difatti il peccato il peccato che è la morte spirituale a causa del peccato è entrata nel mondo la morte come si dice San Paolo a causa del peccato è entrata nel mondo la morte noi per parola morte mettiamo dentro pure tutti i mali dal raffreddore a tutti gli altri mali che volete voi agli tsunami ai terremoti alle guerre a quel che volete voi perché c'è tutta questa perché tutto il male del mondo che io vi sto facendo una riflessione cari amici stasera che è questa il mistero del male e chi ci ha liberato dal male come ci ha liberato dal male perché sul mistero del male c'è una superficialità che è incredibile ma anche da parte di chi dovrebbe dire le cose come Dio ce le ha rivelate ma noi dobbiamo capire e dire e spiegare e far capire e non aver pure di dirlo che tutti i mali del mondo sono causati dal peccato e dal peccato preveduto dalle origini e poi aumentati da tutti i nostri peccati pensiamo a un male molto semplice che comunque è il male più grande sociale alla guerra con la quale noi voi pensate la prima guerra mondiale 20 milioni di morti la seconda guerra mondiale 50 milioni di morti dunque non è sono pochi allora chi le ha causati tutti questi morti questa catastrofe noi diciamo ah lo tsunami ha creato 250 mila morti ma una guerra ha fatto 50 milioni di morti e dell'ultima guerra mondiale pensate una guerricciola dimenticata come la guerra di Bosnia ha fatto 400 mila morti allora chi di questo male male che è la guerra che cosa lo causa da che cosa è causata dal peccato dall'odio dalla bramosia dalla prepotenza questo è il fatto quindi tutti i mali che ci sono nel mondo tutti i mali sono causati dal peccato d'origine ma anche dai nostri peccati in particolare certi mali per esempio la guerra io non sto a fare tante disquisizioni ma per me la madre di tutti i mali è la guerra perché non c'è di peggio dalla guerra perché dove c'è la guerra c'è tutti gli orrori si manifestano pensate in Bosnia in Bosnia dico che non è un paese molto abitato tra Bosnia Croazia e lì tu che lascio lì saranno 10 milioni di abitanti 80.000 stupri donne stupate questo è il contesto della guerra il contesto della guerra allora questo per lì cos'è la guerra ma che cosa da cosa è causata da un male endemico profondo che è in noi che è il peccato che poi si manifesta nell'ingordigio nella prepotenza nell'invidia nella voglia di dominare eccetera allora questa è un'analisi che se tu la fai o ti saltano pure i vostri cattolici perché ormai la fede è ridotta è come le riserve indiane ormai la fede è come le riserve indiane il Vaticano che c'è tutta intera poi un po' qua e là perché dico la fede integra cioè si ha paura a dire si ha paura a dire che il peccato è il male dei mali è il male assoluto è colui che genera tutti i mali anche i mali sociali sono generati dal peccato cioè dalla superbia dalla bramosia dall'invidia tutti i mali sociali perché se noi fossimo se noi fossimo come i primi cristiani un cuor solo un'anima sola tanti mali sociali non ci sarebbero ho pensato un male sociale tremendo che sono le famiglie divorziate con centinaia di migliaia di bambini che sono vittime vittime sacrificali di guerre fra il padre e la madre questo male sociale che è tremendo che è fonte di tante sofferenze che cosa lo causa lo causa il peccato cioè il male che c'è dentro in noi l'egoismo che c'è dentro in noi la prepotenza che c'è dentro in noi e vuole prendere i fili in ostaggio per esempio per fare le guerre intestine quindi è giusto che noi andiamo a fondo e diciamo il peccato è il male assoluto è l'origine di tutti i mali ed è a causa del peccato che nel mondo c'è la morte ecco questa è dunque la diagnosi che dobbiamo fare quindi il crocifisso ci rivela il male che si affligge che è il peccato non c'è male più grande allora noi diciamo perché il peccato è il male più grande dobbiamo cercare di capire perché il peccato è il male più grande il peccato è il male più grande perché il peccato ti distoglie ti stacca ti allontana da Dio che è il sommo bene Dio è il sommo bene è la luce è la verità è la gioia è la pace il peccato ti allontana è più grave ti allontana ancora di più fino a staccarti da Dio e lontano ma Dio cosa sei? sei un morto sei un morto non sei nella verità ma sei nella menzogna non sei nella luce ma sei nelle tenebre non sei nella gioia ma sei nella disperazione è tutta una realtà che noi sperimentiamo difatti chi vive una vita senza Dio vive una vita così allora il peccato è un male perché noi perché con il peccato sono come i tralci come dice Gesù tu taglia via un tralcio dalla vita e il tralcio diventa secco staccati da Dio staccato da Dio l'uomo è morto cioè staccato da Dio che è la vita l'uomo è morto ma è una morte che non è il nulla è il rovescio di tutto ciò che sei di buono cioè invece di essere buono sei cattivo invece di essere vero sei falso invece di essere felice sei infelice e così via allora ecco perché il peccato è il sommo male perché ci allontano da Dio che è il sommo bene quindi più gli uomini si allontano da Dio più nel mondo abbondi il peccato e più il mondo è simile all'inferno perché cos'è l'inferno? l'inferno come dice Dante è dove non è Luca che non vedete dove non c'è Luca dove non c'è la luce dove non è Luca l'inferno dove non c'è la luce è come se è come se la terra non avesse il sole sarebbe sarebbe la morte immaginate la terra senza sole è la morte questa è la vita umana senza Dio e questa è l'umanità senza Dio cioè tutti i cadavri ambulanti come diceva Santa Teresa la madre Teresa di Calcutta che poi mi pare che è beata adesso quindi beata Teresa di Calcutta allora il peccato è più grande ai mali questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo che è la causa di tutti i mali ma di fatti ma la Madonna nella sua semplicità cosa ha detto qualche Natale fa? ha detto se accoglierete il re della pace cioè se accoglierete Gesù Cristo questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace voi pensate cioè sarà una specie di anticipo di paradiso se accoglierete il re della pace questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace ma sarà lo sarà perché perché la Madonna è qui perché noi accogliamo il re della pace e lo sarà senz'altro e vedremo la differenza fra quando siamo nelle tenebre e quando siamo nella luce allora allora bisogna capire che alla ravicina di tutto c'è questo cioè noi non possiamo interpretare diciamo così il mondo come se Dio non ci fosse cioè come se Dio non governasse il mondo Dio governa il mondo e non possiamo immaginare la vita umana come se Dio non ci fosse Dio governa anche la vita umana Dio governa il mondo e governa la vita umana però c'è il male c'è il peccato e tu c'è il male e noi diciamo che tutti i mali che ci sono quelli che ci preoccupano tutti i mali sociali le guerre le impidi le gerossie i matrimoni falliti le droghe tutto quello che volete voi tutti i mali hanno una radice profonda che è il peccato questo è l'attienso che dobbiamo fare capire Dio governa il mondo governa le vite ma noi ma noi resistiamo alla sua grazia e questo è il dramma che vive la società di oggi a rischio di autodistruzione ma che vivono anche i singoli perché guardate che chi è senza Dio sta male io ho mai visto una persona che è con Dio e sta male perché per quanto vada male va sempre bene c'è poco da fare come diceva Santa Teresa solo Dios basta chi ha Dio ha tutto chi ha Dio ha tutto e chi ha tutto ma non ha Dio ha niente terra terra dico dico l'oro è terra io mi dico ma scusa io guardo un 500 euro è la più grande monta che c'è 500 euro o un lingotto d'oro e dico dunque vediamo cosa sono questi sono atomi elettroni sono atomi alla fine è tutta terra non posso dire la medissima cosa degli esseri umani perché so che al di là del corpo c'è l'anima ma per altre cose posso ben dire è terra 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 e allora allora Dio governa il mondo governa la vita e vede il male che c'è in noi nel quale siamo caduti cioè quello che dobbiamo capire è che Dio non ha creato il male il male è opera nostra cioè noi ci siamo allontanati da Dio e abbiamo creato il male spirituale abbiamo peccato abbiamo creato il disordine sulla terra cioè Dio ha creato l'uomo anche Dio quando ha creato l'uomo non solo ha creato in grande amicizia in grande perfezione quindi con i doni della sapienza dell'integrità dell'immortalità il dominio della natura il rapporto felice fra l'uomo e la donna ma voi pensate prima del peccato che Adamo dice questa è la carne della mia carne ossa delle mie ossa dopo il peccato la donna che tu mi hai dato capito? l'ha indotta al peccato la donna che tu mi hai dato questa è l'accusa l'accusa vicendevole quindi questo è il male nel mondo è prodotto dall'uomo allora Gesù Cristo bisogna dire questo Gesù Cristo è venuto a liberarci dal peccato è venuto a salvarci dal peccato se è fatto uomo ha patito in croce per salvarci dal peccato perché fino alla morte in croce? perché? questa è una meditazione da fare cioè io prima avevo detto che la morte in croce rivela quanto Dio ci ama e rivela quanto l'uomo è cattivo verso Dio perché quello non gli abbiamo fatto ma dico perché? perché è attraverso la passione la morte in croce che Gesù ci ha redento certo la redenzione è incominciata con l'incarnazione tutta la vita di Gesù ha un valore redentivo però è certo che è in croce che dalla croce è venuta la salvezza perché? perché Gesù Cristo da quando ha accettato di bere il calcio e il dolore nel Gezzemani e ha sopportato quello che ha sopportato e infine è morto dicendo è ispirato dicendo padre perdono loro perché non sono quello che fanno perché? perché Gesù Cristo ha dovuto fare questo itinerario tremendo per liberarci dei nostri peccati per quale motivo? ma la cosa noi dobbiamo cercare di capire dobbiamo cercare di capire quello che Dio fa anche se molte volte lo fa al di là dei nostri pensieri però noi sappiamo sappiamo dunque il peccato che cos'è? il peccato è superbia e disamore superbia disubbidienza e disamore questo è ciò che è l'essenza di ogni peccato superbia disubbidienza e disamore superbia verso Dio disubbidienza la legge di Dio disamore verso Dio voi mettete insieme tutti i peccati del mondo un oceano immenso disuperbia disubbidienza disamore voi pensate guardate guardate voi pensate guardate a una vita di una persona ma anche se è una persona buona quanto male ha alle sue spalle perché noi veramente produciamo un sacco di male pensate poi le vite disastrate di chi di chi è sotto l'influsso di Satana voi pensate da Adamo fino ad oggi gli uomini cosa hanno prodotto di male ma pensate ciò che producono oggi di male se noi vedessimo il mondo dall'alto infatti la Madonna una volta quando disse quando chiese nei primi anni a Međugorje quattro ore di preghiera ogni giorno la gente cominciò a dire ma la gente cominciò a prontolare la Madonna disse ma guardate quanto è grande il peccato che c'è nel mondo ha detto allora allora questa è la dunque quello che dobbiamo dobbiamo capire è che il peccato è un condensato di superbia disubbidienza cattiveria mettete tutto quello che volete allora tutta questa realtà dei peccati degli uomini andava distrutta andava distrutta cioè il peccato una realtà questo inquinamento questo inquinamento prodotto dagli uomini questo inquinamento spirituale che dava morte alle anime andava distrutto eliminato in che modo con che cosa questo inquinamento questo condensato di cattiveria di disamore di superbia andava distrutto o se vogliamo dire espiato in che modo con qualcosa di diverso cioè la superbia andava andava cioè gli oceani della superbia andavano eliminati con l'umiltà il disamore con l'amore la disubbidienza con l'obbedienza ebbene Gesù Cristo nel suo cuore ha vissuto specialmente nei giorni della passione una tale obbedienza al padre padre sia fatta non la mia ma la tua volontà un tale amore per il padre e per noi una tale umiltà tutto questo che lui ha vissuto nel suo cuore ha distrutto il peccato del mondo hanno che decreto sono eliminati i peccati i peccati lui li ha eliminati con il controveleno cioè praticamente in un mondo in un mondo dove il disamore dominava Gesù Cristo su questo mondo ha riversato un oceano infinito di amore che è uscito dal suo cuore e in questo modo ha distrutto il peccato col suo amore che lui ha vissuto nel suo cuore per cui noi quando guardiamo a Gesù di fatti dal suo sangue uscì dal suo cuore uscì sangue e acqua l'acqua che cos'è? l'acqua sono i due sacramenti della chiesa il battesimo e il battesimo e la penitenza e il sangue sono i cinque sacramenti che nutrono l'anima ma i due sacramenti che lavano dal male lavano il male del mondo e il lavacro che elimina l'inquinamento spirituale satanico del mondo sono usciti dal suo cuore l'acqua è simbolo del suo amore col quale lava i peccati li lava via li purifica è la potenza del suo amore cioè Gesù Cristo nel suo cuore ha avuto più ha avuto un amore talmente grande che ha distrutto il disamore di tutti gli uomini di tutti i tempi compreso il nostro l'ha dissolto l'ha bruciato ecco perché ci ha redenti Gesù Cristo perché nel suo cuore lui come uomo perché Gesù Cristo ci ha Gesù Cristo ci ha salvati come uomo perché solamente come uomo poteva patire poteva morire con la sua volontà umana ci ha salvato Gesù Cristo ci ha salvato con la sua volontà umana con quella volontà che ha aderito fino in fondo alla volontà del padre mentre la nostra volontà da Adamo e Deva fino ad oggi la nostra volontà si è allontanata dalla volontà di Dio ma lui con la sua adesione alla volontà di Dio ha sanato tutte le nostre volontà intebolite e orientate al male insomma ci ha fatto la medicina di fatti di fatti quando Gesù Cristo è risorto e gli apostoli erano rincusi nel cenacolo è entrato e cosa ha detto pace a voi ha soffiato su di loro ha detto ha detto a chi rimetterete i peccati il soffio su di loro era il battesimo che ha dato era la remissione dei peccati che ha dato gli apostoli e poi li ha abilitati perché rimettessero i peccati agli altri cioè Gesù Cristo in poche parole Gesù Cristo Gesù Cristo col suo amore ha distrutto i peccati di tutti gli uomini per cui per cui noi dobbiamo semplicemente lasciarci che il suo amore o se vogliamo la sua grazia ci lavi ci purifichi ci elevi ci trasformi ci guarisca insomma quel male tremendo assoluto che è il peccato non ha medicine sulla terra non ha medicine sulla terra ma di fatti noi che siamo così migliorati pensate in cent'anni il mondo com'è cambiato una cosa incredibile ma negli ultimi vent'anni più altro che cambiato poi adesso poi continuano a mettere la lunghezza dalla vita insomma nessuno va ad andare in paradiso cioè nessuno crede più nell'aldilà loro stanno nell'aldi qua ma dico secondo voi secondo voi il mondo è migliorato sotto il profilo morale il mondo è molto più infernale oggi di cent'anni fa ve l'assicuro e dico poveri anziani poveri anziani c'è nessuno che li accudisce hai capito? questo è il mondo nel quale viviamo solitudine e morte quindi quindi non mi vengono a dire che il mondo di oggi è meglio di sì è più voluto però più disperato sazi e disperati disse il candidato al biffi è la verità sazi e disperati quindi non c'è stato miglioramento morale tutt'altro ma la medicina cioè il mondo può fare quello che vuole ma pensatele tutte se volete guardate le hanno inventate tutte è il paradiso in terra è il comunismo è il nazismo è qua è là è la scienza è su è giù ma alla fine fine alla fine fine disperati si muore a meno che uno non creda in Dio l'unica medicina che c'è l'unica medicina che gli uomini hanno a disposizione perché la vita sia bella perché la vita sia salvata perché io adesso faccio un discorso non un popolo di disperati disperati sono quelli che non credono in Dio a me fanno pena sono disperati sono pure arrabbiati sono arrabbiati poi si arrabbiano con me dico ma e mi dicono tutti i colori ma io vi dico state tranquilli state tranquilli che vi pio per il croattino e vi porto in cielo dunque sono disperati ma la medicina ragazzi io parlo parlo a dei redenti cioè noi Gesù Cristo con la sua morte in croce distruggendo il peccato c'è fatto l'unica medicina di cui gli uomini hanno bisogno che è l'amore di Dio che è la grazia questa sì che è la medicina di cui abbiamo bisogno e chi ha questa medicina state tranquilli state tranquilli che non solo rinasce nell'anima ma in tutto in tutta la vita diventa bella perché per mal che vada uno va in cielo questa è la verità allora allora a un mondo che è sprofondato nel male dobbiamo dire stai tranquillo che c'è c'è la salvezza ma non quella che danno gli uomini quella che ci è meritato Cristo in croce che perché come diceva bene Berenetto XVI alla fine Gesù Cristo facendoci uomo cosa ci ha dato si chiede nel suo libro Gesù di Nazareth dice Gesù Cristo facendoci uomo ci ha dato Dio e ti par poco ci ha dato il suo amore il suo abbraccio questa è una cosa bellissima il risorto il risorto Cristo risorto immortale glorioso è colui che abita dentro di noi per cui guardate che io ormai ormai grazie ringrazio Dio perché mi ha portato a questa a questa pian piano mi ha portato perché io fin da bambino quando c'era un funerale ero sempre molto attento e qualche volta in chiesa quando non c'era ancora la barra io andavo e mi stendevo sul catafalco da ragazzo non ero chiarichetto perché perché per me il problema della morte è sempre tutto fondamentale da quando ho scoperto la morte dico ma che fregature mai dicevo al padre eterno è impossibile che tu credi alle creature così belle condannate a morte io già da bambino avevo già l'idea è chiara il mondo è condannato a morte logica fanzaghiana non si scappa allora adesso io ringrazio Dio che alla mia età io adesso dico io nel momento della morte sento sentirò l'abbraccio di Gesù Cristo risorto che mi abbraccia so che è così per ogni cristiano questa è la verità basta sentire le sue parole basta sentire le sue parole quelle che dice nel capitolo 7 di San Giovanni io sono la risurrezione della vita eccetera eccetera questa è la verità quindi c'è il salvatore c'è Gesù Cristo il salvatore il risorto il santo quello che ci santifica e ci dà la grazia che cura le nostre ferite illumina la mente ci dà la sapienza sa nel cuore lo riempi di amore ci dà la bellezza della vita ci dà tutte le virtù dalla fede la speranza la pazienza ci dà il rapporto umano con gli altri per cui gli altri vedono in te buon samaritano vedono in te fratello misericordioso come dice la Madonna riscatta la vita la rende bella siamo salvati dall'amore di Cristo perché lui sulla croce ha distrutto il male assoluto la diossina ha distrutto la diossina spirituale che è il peccato che rovina le anime e lui con la sua grazia ce la dona ce la dona in abbondanza allora quando ci dona la grazia la grazia ce la dona prima di tutto col sacramento del battesimo guardate questo qui Gesù Cristo mica non dice andate battezzati in tutto il mondo è una cosa straordinaria cioè col battesimo uno uno viene liberato da tutti i peccati voi pensate cos'è questo sacramento è perché uno con il sacramento del battesimo voi prevedete un adulto un adulto che viene battezzato la notte di Pasqua sono molti gli adulti che vengono battezzati in Italia almeno un 500 convertiti ogni anno che sono catecumini che si sono convertiti e ricevono il battesimo e mica sono tutti estracomunitari e la maggioranza sono italiani allora questi qui hanno uno dice ah ma prima del battesimo uno deve confessarsi e no perché no è perché senza il battesimo uno può confessarsi i battesimi se uno non ha ricevuto il battesimo non può ricevere nessun sacramento allora uno va a battezzarsi io sono situato dei battesimi di adulti erano anche fatti uno si battezza sì per carità uno prima ha un colloquio con il sacerdote confesse i suoi peccati però non riceve la soluzione perché il battesimo nel battesimo uno viene liberato dal peccato originale da tutti i suoi peccati personali da tutte le pene inerenti ai peccati per cui se morisse dopo il battesimo va subito in paradiso è una nuova creatura la grazia lo ha radicalmente guarito gli ha tolto il venino del serpente l'ha purificato ne ha fatto un figlio di Dio ne ha fatto un tralcio vivo un tralcio vivo per cui produce i frutti per la vita eterna voi pensate che è il sacramento del battesimo e perché perché uno viene battesato in Gesù Cristo viene battesato nella grazia di Cristo quella che lui ha lui con la grazia quell'amore col quale ha distrutto i peccati del mondo quell'amore che l'ha portato a morire in croce quell'amore ha distrutto i peccati del mondo e ci viene comunicato attraverso i sacramenti la fede e i sacramenti ovviamente per ricevere il battesimo ci vuole la fede perché la prima cosa che uno chiede il prete ti chiede la fede se sei adulto a te se non sei adulto ai tuoi genitori allora viene distrutto e poi dico dico l'altro sacramento siccome guardate che all'inizio all'inizio del cristianesimo il sacramento del battesimo era preso così sul serio che poi cioè uno che era stato battezzato non poteva più commettere peccati non poteva più commettere peccati per cui se ne commetteva ancora gli faceva fare una penitenza che voi non ci avete idea c'era un cammino penitenziale incredibile e prima di essere ammesso la soluzione specialmente di alcuni peccati come l'omicidio l'adulterio e l'apostasia questi tre peccati l'omicidio l'adulterio l'apostasia richiedevano anche mesi anni di cammino penitenziale per cui questi qui aspettavano fuori dalla chiesa non potevano entrare in chiesa e man mano che gli altri andavano in chiesa chiedevano di essere pregate per noi poveri peccatori la confessione così come la facciamo adesso cioè così spesso è perché la chiesa si è resa conto che i cristiani hanno bisogno perché quelli che resistono senza peccare dopo il battesimo sono relativamente pochi e man mano che le file si ingrossavano e i pecoroni invece di belare ringhiavano come i lupi la chiesa si è ricordata di quello che Gesù ha detto a Pietro non sette volte ma settanta volte sette e ha istituito il sacramento della confessione frequente ma questo sacramento è mirabile mirabile perché perché noi nel sacramento della confessione riceviamo la remissione dei peccati perché Cristo li ha espiati e quando il sacerdote ti assolve ti dà la grazia dello Spirito Santo che ti purifica radicalmente non come il battesimo nel senso che la confessione ti rimette i peccati ma solo parzialmente le pene connesse al peccato le altre devi spiarle qui in questa vita ho un purgatorio ma comunque la confessione è una cosa grandiosa perché tu se sei un ramo secco diventa un ramo verde sei innestato alla vite se sei staccato da Cristo di nuovo vieni inserito in Cristo sei una sola cosa con Lui Gesù Cristo vive in te sei il Tempio della Santissima Trinità ecco perché è importante è importante ricevere il sacramento della penitenza ogni volta che non si è in grazia di Dio allora si discute per quel motivo c'è una crisi del sacramento della penitenza le cause sono molte ma una di queste una delle ragioni della crisi sapete qual è è che non siamo consapevoli della gravità del peccato perché noi viviamo in peccato come se nulla fosse ma vivendo in peccato come se nulla fosse è un pessimo affare che viviamo da morti spirituali viviamo lontani da Dio viviamo lontani da Cristo e poi quello che facciamo le sofferenze che sopportiamo che comunque sempre ci sono non fruttificano per la vita eterna non ti fai dei meriti per il paradiso allora questo lo dico perché dobbiamo capire capire che la gravità del male del peccato è per noi particolarmente come si dice colpevole perché mentre quelli che non credono non sanno che c'è la medicina che è la medicina della grazia noi che crediamo noi sappiamo che c'è la medicina della grazia ma non la prendiamo cioè il fatto che i fedeli oggi in gran parte disertano il sacramento della confessione sarà colpa anche di noi preti che forse non siamo abbastanza disponibili forse non comprendiamo l'importanza ma questo fatto ti dimostra che la gente non si rende conto che vivendo in peccato grave in stato di peccato mortale è morta spiritualmente il peccato mortale è quello che dà la morte è morta spiritualmente cioè uno è privo di Dio il catechismo della chiesa cattolica dice dice il catechismo della chiesa cattolica dice che se una persona muore in peccato o stato di peccato mortale senza pentirsi va all'inferno allora questo ve lo dico perché oggi oggi a mio parere c'è un fronte su cui siamo deboli è che è che mentre siamo pronti a puntare il dito sui peccatori non ci rendiamo conto della gravità del peccato che è in noi e di cui dobbiamo liberarci e di cui dobbiamo purificarci e essere attentissimi a vivere in grazia di Dio ma guardate non con la paura o con gli scrupoli ma no ma con la gioia dei figli di Dio ma guardate che vivere in grazia di Dio è una cosa bellissima perché uno vive in compagnia degli angeli e dei santi è in comunione con la chiesa della terra del purgatorio e del cielo vive la comunione dei santi cos'è la comunione dei santi è la comunione di tutti coloro che sono in grazia di Dio e chi non è in grazia di Dio è escluso da questa comunione io voglio recuperare questa bellissima realtà della comunione dei santi cioè di tutti coloro che sono rivestiti della grazia santificante che è la medicina che Cristo ha avuto al mondo cioè perché Cristo ha salvato il mondo Cristo ha salvato il mondo perché ci ha dato l'amore di Dio che ci purifica ci santifica e ci unisce a Lui e unendoci a Dio noi siamo saldi senza Dio siamo morti senza Dio la terra è un cimitero che andrà in fiamme a suo tempo ma vi sembra questa la vita? è una cosa assurda ma è tanto più assurda in quanto Dio è venuto in mezzo a noi e si è manifestato e ci ha salvato io dico come si fa? dico una piccola cosa vengo qui gente che mi dice ah padre Livio sono una crisi di fede perché qui ma sarà vero o non sarà vero c'è o non c'è ma io dico ma scusa sei amato a Međugorje gli ho detto ma io dico è la Madonna che vede per 30 anni tutti i giorni appare dico si manifesta e tu vieni qui a dire se c'è o non c'è ma apri gli occhi datti da fare non è che Dio non dia i segni io non dico che bisogna per forza andare a Međugorje dico a me non lo preghi a me non lo preghi ma se perché se uno prega non va in crisi di fede perché se uno prega sperimenta Dio se uno prega è vicino a Dio se uno prega sente Dio se uno prega è una sola cosa con Dio chi prega state tranquilli è per quello che mi dice pregate 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 chi prega chi prega è unito a Dio lo sente ci parla insieme è vivo allora ma dico però siccome non tutti pregano o pregono abbastanza ho bisogno di segni la mano ci ha dato questo segno che è venuto qui in mezzo a noi e qui in mezzo a noi dico ma è questa la cosa grave che abbiamo il salvatore del mondo Dio ci ha salvati è venuto il sole e noi come topi stiamo nelle fogne ma si può è venuto il sole io sono la luce del mondo e noi stiamo nelle caverne è venuto il salvatore e noi andiamo dal medico delle nostre anime è venuto chi si è fatto l'amore di Dio e noi stiamo nel nostro egoismo ma è questa questo è il motivo per cui Dio è sofferente Dio soffre per questo è in croce fino alla fine del mondo ma è una cosa incredibile cioè credetemi è una realtà perché tu lo vedi nella gente è una realtà ma è una realtà incomprensibile cioè gli uomini amati da Dio se ne infiscano se ne infiscano di Dio gli ha paralizzati il veleno del serpente ma è che è una cosa vera gli uomini sono amati da Dio e se ne infischiano di Dio ma è possibile forse Dio qualcosa di impalpabile ma si è fatto vedere è morto in croce cosa vuoi di più vedi il male a che punto arriva ti indurisce il cuore te lo rende di pietra allora noi in questa Pasqua è qui che volevo arrivare alla fine in questa Pasqua noi dobbiamo fare una grande cosa la grande opera che dobbiamo fare a Pasqua e cioè far sì che la croce di Cristo non sia vana per noi che Cristo non sia morto in vano per noi e cioè andiamo sotto la croce facciamoci lavare dal suo sangue facciamoci lavare dal suo sangue e questo lo facciamo andando a confessarci e come dice Caterina da Siena vomitiamo nel confessionale tutto il male che abbiamo dentro vomitiamolo laviamoci purifichiamoci entriamo nella luce questo dobbiamo fare perché perché la Chiesa vuole che ci si confessi almeno a Pasqua e non a Natale per esempio ovviamente vuole che ci si confessi a Natale però ha messo come procetto nel tempo pasquale cioè un cristiano deve almeno nel tempo pasquale confessarsi almeno perché nel tempo pasquale perché è dalla croce di Cristo che ci è venuta alla remissione dei peccati è la croce di Cristo che ci ha redento dai peccati è la croce di Cristo che opera nei sacramenti del battesimo e della penitenza ecco perché dobbiamo andare a confessarci almeno a Pasqua per ricevere poi il dono della pace perché dove è la pace? quando uno si è confessato è felice è in pace con Dio e la mamma ci ha detto se siete in pace con Dio siate in pace con voi stessi se Dio vi perdona perdonate a voi stessi quindi uno in pace con Dio in pace con se stesso quando uno è in pace con Dio in pace con se stesso è in pace anche con gli altri perché? perché effonde quello che ha dentro effonde quello che ha dentro c'è poco da fare questa è dunque l'opera che dobbiamo fare in questa Pasqua io vorrei invitare in questo momento tutte le parrocchie a scuotere a scuotere le comunità organizzando la confessione comunitaria che cos'è la confessione comunitaria? è questa per esempio se i giovani i giovani giovedì santo mercoledì santo come vedete voi date un appuntamento in chiesa alle ore 21 invece di andare in giro qua e là su e giù tutti i giovani in chiesa fanno una bella liturgia penitenziale il prete spiega tutti l'esame di coscienza spiega il grande valore della confessione e poi uno per uno e qui bisogna mettersi d'accordo con i preti vicini con i religiosi vicini uno per uno si confessa io nella mia parrocchia l'ho sempre fatto questo noi nella nostra parrocchia l'abbiamo sempre fatto cioè la preparazione comunica perché se tu aspetti l'altro in confessionale arriva uno poi arriva l'altro poi arriva la messa no no invito le parrocchie a fare queste liturgie penitenziali dove bisogna chi prende si aiutano fra di loro dove tutta la gente viene tutta si prepara bene alla confessione e poi ci si confessa personalmente uno per uno non tutti insieme non le assoluzioni comunitarie ma le assoluzioni individuali e questa è una bellissima cosa perché ridiamo fiato al sacramento della penitenza e facciamo sì che la gente vada a fare la comunione in grazia di Dio perché se facciamo la comunione di peccato mortale aumentiamo il peso dei peccati allora adesso io siccome dico che il peccato è più grande male già tranquillo che io avrò quelli che mi dicono padre mio padre che è un terrorista io ho detto che lei è un terrorista ma dico ma scusate ma dico allora 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 Gesù Cristo è un terrorista perché ha detto via da me maledetti avevo fame non mi destra da mangiare avevo sete non mi destra da bere anche lui è un terrorista via da me maledetti nel fuoco eterno allora è terrorista anche il catechismo della chiesa cattolica quando dice quando dice chi muore in peccato mortale senza pentirsi va all'inferno è terrorismo quello no non è terrorismo è logica cioè chi vive senza Dio figlioli cari è morto è morto cioè è una questione di logica se uno se uno si stacca da Dio è come il treggio staccato dalla vite tale e quale il peccato è come dice il catechismo della chiesa cattolica il peccato mortale qual è il peccato qual è la differenza tra peccato mortale e peccato veniale il catechismo della chiesa cattolica dice che il peccato mortale è quello che distrugge l'amore di Dio nel nostro cuore questo è il peccato mortale distrugge l'amore di Dio nel nostro cuore quindi ha questo effetto tremendo come si fa a sapere quando un peccato è mortale non è sempre facile sapere quando un peccato è mortale certamente per quanto riguarda la materia per molti peccati è facile per esempio l'omicidio è sicuramente materia grave l'aborto è materia grave la bestemmia non per abitudini ma quella fatta con malizia è materia grave non santificare la festa è materia grave l'adulterio è materia grave rapporti per i matrimoniali è materia grave insomma queste sono materie gravi altre poi non tutti i peccati sono uguali cioè la gravità è diversa per esempio l'omicidio è più grave di un furto anche un furto grave un grande furto può essere un peccato mortale ma l'omicidio certamente è più grave quindi la materia in alcuni peccati è evidente che è grave in altri molte volte è il confessore che valuta poi però perché un peccato sia mortale attenzione perché è difficile dire perché è difficile dire se una persona è in peccato mortale o non lo è attenzione non basta che la materia sia grave è per quello cioè la materia noi la vediamo cioè vediamo uno che uccide un altro quello è il peccato mortale quello è il peccato noi dobbiamo dire ha commesso un atto grave però perché il peccato sia mortale o che è la piena avvertenza e deliberato consenso cos'è la piena avvertenza la consapevolezza che sta facendo qualcosa di grave il deliberato consenso quella volontà sufficiente per cui io l'ho voluto ma qui le questioni sono molto delicate perché i condizionamenti sociali psicologici affettivi mentali di tante queste cose anche la legge tiene conto d'accordo quindi non è facile dire con esattamente è facile stabilire la materia questo è peccato grave o meno grave o veniale ma poi quando entra di mezzo la piena avvertenza o il deliberato consenso qui figlioli cari è difficile anche per un prete sapere quanto è la piena avvertenza e quanto è deliberato consenso non solo è difficile anche per il soggetto per cui alla fine lo sa soltanto Dio però c'è una distinzione per quanto riguarda gli atteggiamenti soggettivi che va fatta cioè la distinzione tra i peccati di debolezza e quelli di malizia i peccati di debolezza possono diciamo così avere una parziale giustificazione per quanto riguarda il deliberato consenso uno può avere anche delle tare psicofisiche per dire no? i peccati di malizia che invece sono studiati perpretati realizzati lì c'è la cattiveria lì c'è la malizia quelli sono quelli che uccidono fino in fondo una persona quindi il peccato mortale non è che sia una cosa così facile cioè la ferita che ti infigge un peccato non è sempre facile però una cosa è certa che se uno le commette uno un altro e poi un altro li accumula arriva alla fine che la ferita diventa mortale cioè si va verso l'indurimento del cuore quindi attenzione perché il cuore se vogliamo l'anima è come il corpo una bastonata la regge due sta male la terza tira i calzini è così dobbiamo stare molto attenti quindi dobbiamo certamente mettere a fuoco tutti i peccati mortali e poi quelli dobbiamo sempre confessare io ho fatto una newsletter per cercare di aiutare la gente a fare un esame di coscienza però la gravità dei peccati attenzione la gravità della materia viene stabilita dai comandamenti cioè quando se vuoi la vita eterna dice non uccidere non rubare non di farse cioè i comandamenti stessi sono quelli che ti orientano sulla materia poi naturalmente ovvio che quinto comandamento tu dai uno schiaffo a una persona a un peccato leggero la ferisci già un peccato di una certa gravità la uccide un peccato mortale sotto il profilo capito quindi chi ci dà l'orientamento è la legge di Dio non solo le opinioni umane per esempio l'aborto aiuto che mi vengono a dire che è un diritto che è qua che è là che è su così sì per carità Dio ti racconta che è dell'attenuante però la Madonna ha detto che ha retondo quello che ha detto la Chiesa cioè la Chiesa ha detto che è un diritto la Madonna ha detto che è un peccato gravissimo e ne rispondono a Dio tutti quelli che l'ha procurato compresi i medici tutti quanti le ha detto alla Madonna il bambino che è abortito non ha colpa è come un angelo in cielo ma gli altri ne rispondono a Dio questo per dire che su certi peccati c'è una gravità quindi anche se la società dice che non lo è conta la legge di Dio cioè i peccati sono definiti dalla legge di Dio e non dalla legge degli uomini per esempio la legge degli uomini l'adulterio niente anzi vorrei dire che addirittura viene esaltato viene esaltato il libero amore viene esaltato ma secondo la morale cattolica o la sessualità è all'interno del matrimonio e come si deve o fuori del matrimonio è peccato c'è poco da fare questa è la legge di Dio la legge di Dio la fatta Dio è inerente alla natura umana noi non possiamo cambiarla per cui noi dobbiamo analizzare i peccati alla luce della legge di Dio che la Chiesa ci insegna e non secondo quel che dicono gli uomini perché gli uomini cosa volete loro gli uomini diciamo così sono degli abili ingannatori di se stessi ecco allora non voglio andare oltre che vi sono già arrivato oltre il tempo però quello che io chiedo a Dio questa grande grazia che che la grande famiglia di Dio Maria dia un esempio un esempio di della ripresa del sacramento della confessione fatta bene capito con la piena proprio con il dolore dei peccati il proposito di non più commetteri la consapevolezza del male che è il peccato di Cristo che ci ha redenti del suo amore l'importanza di vivere in grazia di Dio se c'è una Pasqua sentita così da parte di tutti noi avremo fatto un bel passo avanti nel rinnovamento della Chiesa di Dio Maria di Dio Maria di Dio Maria di Dio Maria Grazie a tutti